Sì, oggi è stata fredda, ho sprecato un po' nella valle prima dell'ultima salita, mi sono fatto un po' prendere dalla situazione, ho visto che si era rotto il gruppo e forse lì ho sprecato un po' troppo, però comunque sono arrivato con i migliori e penso che oggi sia stata un po' la conferma che la mia condizione è buona. Hai dimostrato di poter lottare per le prime posizioni della classifica, Giulio. Sì, sto bene, non me l'aspettavo sinceramente, però il giro è ancora lungo, quindi vedremo.